Eccoci al monumento dei caduti alla fonte San Leonardo. Vediamo cosa c'è scritto. Oggi, 27 gennaio 2023. E sto adesso, il 15.30. Leggiamo con calma. Il 5 maggio 1944. Giovani italiani, inglesi, neozelandesi, indiani, soldati della libertà, paracadutati su questi mondi. Spirarono l'orrore nazista, furono falciati, segnando con la morte e col sangue la fede dei popoli. Nella Concordia e nella pace 2 giugno 1975. Ecco un monumento. C'è la Madonnina. Adesso salgo qui sopra. Mi hanno fatto pure una lapite di ferro. Comunque. Ecco qui, da dove sono salite. Ecco la Madonnina. Ecco qui, vedete? 1975. Che anni sono passate? Ronda, non lo so. Ronda Tania. Ronda, non lo so. Grazie.